Una data che Arezzo non scorderà e non lo scorderà il centro Franco Basaglia, perché con una grande festa il 29 giugno del 1990 fu decretata la chiusura del manicomio, che era un luogo di segregazione e violenza. Il 29 giugno del 1990 la chiusura dei manicomi, nella stessa data, a 33 anni di distanza, una giornata ricca di eventi al parco del Colle del Pionta. La ricordiamo, ma vogliamo anche che sia un momento di festa, non solo per questo, ma anche per dare il segno concreto di una nuova vita che il Pionta deve avere, con le sue potenzialità, ovviamente le attività sanitarie, che soprattutto qui sono presenti, la ricerca e la formazione universitaria. Ma quello che più è da valorizzare oggi è anche lo spazio per la cultura, per il tempo libero, per le attività sportive, cioè un luogo di vita, di aggregazione, una risorsa per la città. Nel corso degli anni però troppo spesso è diventato il luogo di degrado, così da quasi un decennio si è costituito il Comitato Pionta, composto da tante associazioni unite con un obiettivo comune, restituire il parco all'intera città. La giornata è significativa perché vuol significare per noi non solo il ricordo della chiusura del manicomio, ma se è possibile un'apertura nuova alla città. Il 29 giugno una giornata di festa, ma anche una giornata per far conoscere ciò che possono fare le diverse abilità. E quindi avremo tanti laboratori del Dipartimento di Salute Mentale, ma anche di cooperative private del terzo settore e associazioni di volontariato in cui i veri protagonisti sono frequentatori dei laboratori stessi, che a livello artigianale e anche agricolo dimostreranno i loro prodotti. Le diverse abilità sono una ricchezza, basta saperle valorizzare.